Partiamo da un presupposto. Se sei in disaccordo con me, sei un comunista. Quindi puoi cantare bella ciao, però almeno si intonato, perché la vita è piena di cose brutte, almeno, sai, una canzone cantata bene non fa male. Voglio bene a tutti però. Ciao. Vedete come funziona questa retorica? Funziona bene, perché non dà spiegazioni. Io ti offro da subito una narrativa a cui tu credi direttamente. Perché perché dovrei dire una menzogna, no? Così poi in piena vista. Se tu sei in disaccordo con me, sei un comunista. Basta. Perché io sono un non comunista, io sono altro. No. Però se tu fai questa cosa, sei un comunista. Che cosa sto comunicando al mio pubblico? Sto comunicando, al contrario, che se sei in accordo con me, non sei un comunista. E quindi andiamo già d'accordo. È un tipo di retorica che funziona bene perché offre una narrativa già pronta, che non ha bisogno di spiegazioni contro spiegazioni. Cioè, una funzione basta, è già preconfezionata, tu ce l'hai, la consumi, la assimili subito, ti entra sotto la pelle e non capisci neanche quello che sta succedendo. Un altro tipo di retorica che sta funzionando molto è quella del mostrarsi inoffensivi, no? Parliamo assolutamente di comunicazione all'interno della politica. Inoffensiva nella misura in cui io sono una persona come voi, mi mangio pane e nutella, come tutti quanti, la mattina a colazione. Non come i professoroni, non come gli intellettuali che parla, parla, alla fine non si sa che cosa fanno, cosa mangiano. Non li possiamo neanche immaginare che fanno la mattina caviale e studiare dei giornaloni complicati pro Europa che non vogliono bene l'Italia. Io vi propongo il pane e nutella non solo, ma vi parlo nella mia autobiografia, o nella mia biografia, che il motivo per cui sono diventato ministro degli interni, quindi sono a capo della sicurezza nazionale, è perché da piccolo mi rubarono il pupazzetto di Zorro. Da loro ho sviluppato un senso fortissimo di giustizia e voglio che nessun pupazzetto di Zorro venga più rubato un bambino. Vedete com'è inoffensiva la cosa? È proprio una cosa piccola, quasi da Gianni Rodari, il bambino a cui viene rubato il pupazzetto, studia studia e diventa qualcuno. Un tipo di retorica e di narrativa, qui vi voglio fare riflettere, perché c'è qualcosa che invece sta accadendo. Parliamo ovviamente di Salvini, parliamo di Lega, che mi ha fatto un pochino drizzare le orecchie. Ora, al di là del fatto che Barbaroffa, tu sei pro o contro Salvini, non è proprio questa la questione. Stiamo parlando solamente di comunicazione, di quello che sta succedendo. Stiamo parlando di striscioni. C'è stata una notizia un po' di tempo fa che mi ha fatto dire, wow, come è possibile che sia accaduto? E perché non ci sono delle spiegazioni? Stanno iniziando a mancare proprio delle spiegazioni, delle relazioni causa-effetto all'interno della stampa. Nel Bergamasco, una manciata di giorni fa, c'è stato un comizio di Salvini all'aperto. E c'era questa casa, un balcone, su cui è stato appeso lo striscione con scritto Salvini non sei il benvenuto. Qualcosa che secondo me è anche molto pulita, cioè non è un insulto, non è niente di denigratorio. Insomma, chiunque potrebbe dirmi Barbaroffa non sei il benvenuto. E, boh, me la dovrei tenere. La cosa strana è che dal nulla è spuntata questa gru dei pompieri che han tolto questo striscione. Non si capisce perché. Non si capisce perché. Ci sono state delle spiegazioni che però fanno acqua da tutte le parti. Non è un gioco di parole col fatto che siano i pompieri coinvolti. Il motivo è, sì, però la signora proprietaria di quella casa era morta. Quindi abbiamo dovuto togliere lo striscione. C'era il nipote che aveva affisso questo striscione per motivi di ordine pubblico l'abbiamo dovuto togliere. Anche lì, ordine pubblico che cosa? Semplicemente dire non sei il benvenuto. Non penso che scateni chissà che cosa. Si tratta semplicemente di dissenso, di esprimere le proprie idee politicamente. Il tour di Salvini sta avendo delle reazioni molto miste. E in questo momento Salvini è un personaggio molto discusso su internet. La reazione, per esempio, del pupazzetto di Zorro è stata esilarante. Ci sono stati dei meme, delle risposte, roba del tipo Salvini, esci i 49 milioni e ti ridiamo il pupazzetto di Zorro. Lo abbiamo preso noi, cioè tutte queste cose qua. Non si può negare che Matteo Salvini in questo momento sia un personaggio discusso. Ci sono delle forti opinioni pro, delle forti opinioni contro. Ma questa storia degli striscioni e del manifestare, anche pacificamente, nel momento in cui lui fa dei comizi, fa altro, è qualcosa di interessante. Ripeto, perché non ci sono spiegazioni. Nessuno è riuscito a spiegare da chi è partito l'ordine per i vigili del fuoco di togliere lo striscione, Salvini non sei il benvenuto. E anche lì il difendere ragazzi, però dai, i vigili del fuoco stavano solamente eseguendo degli ordini è anche un po' inquietante, no? Perché chi è che eseguiva solo degli ordini? I nazisti, si dice proprio questo. Parliamo di Anna Arendt, la banalità del male. Eseguivano solo gli ordini. Che cos'è la banalità del male? La banalità del male è il fatto che magari il signor Fritz, SS, guardia nazista al tempo, andava a lavoro, faceva tutte le cose che facevano le SS, poi tornava a casa, aiutava il figlio con i compiti, aiutava la moglie a lavare i piatti, era un buon padre di famiglia, era un cittadino, un modello, perché effettivamente faceva quello che veniva detto dall'alto. Quindi anche questa cosa, sì, ma i pompieri poverini stavano eseguendo solamente degli ordini, wow, fa riflettere. Non sto dicendo e non sto suggerendo che i pompieri avessero una responsabilità diretta in questa cosa, che si dovessero opporre o altro, però sto solamente dicendo che questa retorica del stiamo solo eseguendo gli ordini, si tratta solo di applicare il protocollo della legge, non è una scusa, cioè la storia insegna. E questa è storia del liceo, io non sono assolutamente un esperto di storia o altro. Anche un'altra manifestazione interessante è stata quella in cui i manifestanti si sono presentati al Comincio di Salvini con dei cartelloni, anzi dei fogli, praticamente a quattro rigidi, con scritto più uno, e si lamentavano mostrando il più uno. Anzi, era un meno uno, meno uno. Non so che cosa volesse dire nello specifico, come lo potete precisare nei commenti, ma ci sono state delle reazioni forti, anche da Salvini durante il Comizio, che si è lasciato uscire un... Ma le pare normale? E che cazzo alla sicurezza? Ma le pare normale? C'è un Comizio, uno va per ascoltare, può mostrare il suo sostegno così come può mostrare il suo non sostegno. E qualcosa di neutro, come mostrare il meno uno, mi sembra molto, molto inoffensivo, tanto più che non ci sono state violenze, non c'è stato altro. A Campobasso, molto interessante, ci sono state centinaia di lenzuoli stesi dal balcone, usati a mo' di cartellone, con dei messaggi anti-salviniani. E anche questo ha fatto notizia. Tra l'altro, molto interessante, il fatto che il Molise, effettivamente, è una terra poco conosciuta, poco ricca, dove convivono però tantissime etnie. Abbiamo una comunità arbreche, cioè albanese, che parla, fra l'altro, un albanese molto interessante, un albanese antico, che è diverso dall'albanese moderno, radicata lì da talmente tanto tempo che, uff, oramai è diventata una popolazione locale. Cioè, pensare il Molise senza la comunità arbreche sarebbe pensare un Molise finto. Ci abbiamo gli iscavon, come li chiamiamo noi, gli slavi, comunità che si è spinta dalla Croazia fino al Molise, nel tempo, veramente secoli fa, ed è rimasta lì. Tant'è vero che si parla croato anche in Molise. Quindi è stata una bella reazione di, sapete, un messaggio di integrazione, tutte quelle cose, se ci volete credere o meno, se siete contrari o meno. Insomma, ragion per cui, ma, Barbaroff, se tu non ti piace un politico, non votarlo, ma non fare propaganda, non parlarne, questa non è propaganda, è solamente un pezzo di pensiero su quello che possiamo fare con il nostro voto o meno. Nì, io non sono d'accordo, proprio perché ho vissuto anche in dei paesi dove ci sono praticamente dei regimi, perché io ho vissuto in Cina anche, nel passare del tempo. E vi posso assicurare che in Cina fare il discorso del tipo Renzi sei un incompetente, abbasso il PD e queste cose, non si possono fare. Soprattutto su internet. Molti dicono, vabbè, ma tu scendi in piazza, è ovvio, c'è motivi di ordine pubblico su internet, però no, no, è anche quello il punto. Internet come baluardo di difesa della libertà di parola è una cosa importante. In Cina non le puoi dire certe cose. Vi ricordate il meme di Winnie the Pooh, di Xi Jinping? Ecco, te lo bloccano. Te lo bloccano. Tanto è vero, uno stratagemma molto crudele, ma anche molto intelligente, per evitare che ci siano dei visitatori cinesi su internet è quello di menzionare delle cose che non sono tanto gradite al governo cinese. Scrivi una lista di cose, una lista di avvenimenti e di date particolarmente significative e chiunque è collegato dalla Cina, pam, gli salta la connessione. Allo stesso modo non puoi criticare direttamente delle politiche, dei politici anche su internet. Ne abbiamo parlato anche in passato sulla censura cinese. Sang Dai Biao, cioè le tre rappresentazioni che diventavano Dai Sang Biao, cioè portare tre orologi, per cui se su internet c'erano delle immagini di un pulso con tre orologi, si capiva che era un'allitterazione della politica delle tre rappresentazioni. Sang Dai Biao, appunto. Quindi anche questo è diventato lo stratagemma per aggirare la censura che poi è stato capito ed è stato utilizzato a sua volta nei sistemi di censura. Insomma, quello che voglio dire è io mi rendo conto che magari quando vince il cavallo su cui hai scommesso, su cui vuoi scommettere, lo stai scommettendo, un po' sei contento degli avversari che stanno perdendo terreno, un po' sei contento anche delle scorrettezze che subiscono gli avversari, no? Quindi gli striscioni tolti che non si capisce da chi è venuto l'ordine e voglio dire, Salvini sarebbe a capo della sicurezza. È strano che lui non riesca ad accedere a certe informazioni, ma potete correggermi tranquillamente qui nei commenti. Il punto è che questa volta capita magari alla gente che ti sta sulle balle e sei contento. La volta dopo capita a qualcun altro che hanno i propri diritti tagliati, non si capisce bene perché, però va bene lo stesso, tanto non è capitato a noi. La volta dopo, magari, tu cambi idea, vuoi scommettere su un altro cavallo, perché in democrazia si fa così, scommetti su diversi cavalli politici. una volta dopo vuoi scommettere su un altro cavallo e non hai più la possibilità di scommettere su un altro cavallo. Non ti danno proprio la possibilità di parlare di altri cavalli, non ti danno la possibilità di criticare i cavalli passati. Tutto questo incipit anche per dire perché, dici, bisogna parlare anche di politica anche sui social, eccetera, eccetera. Beh, perché è questo quello che ci fa una democrazia. Cosa vuol dire? Stai zitto e mosca. Non ha molto senso. È anche su questo che si sono sviluppati dei partiti, in modo giusto e in modo sbagliato, penso ad altre cose. La situazione è preoccupante. Ci sono state anche diverse persone che hanno segnalato che prendendosi un caffè in piazza mentre c'era un comizio di qualche politico ora non bersagliamo sempre Salvini anche se stiamo parlando sempre di lui arriva la polizia ti chiede i documenti semplicemente perché sei un passante e sei lì. Motivi di ordine pubblico ma oddio ci vorrebbe un ci vorrebbero degli ordini ci vorrebbe qualcos'altro ma in questo voi che siete sicuramente più esperti di me potete spiegarmi per bene nei commenti cos'è che ne pensate cos'è che sta succedendo possiamo commentare le varie le varie notizie ecco penso anche alla giornalista Campana che coraggiosamente è andata con il telefono e ha fatto finta di fare il selfie ehi facciamoci il selfie oh ma perché siamo ma ti ricordi quando eravamo dei terroni di merda anche lì puntando la narrativa che stride uno ti offre una narrativa tu punti la parte che stride però la reazione di Salvini e della Digo si è stata bruttarella hanno proprio preso il telefono via via perché perché mi devi prendere il telefono chi sei per prendermi il telefono qual è la minaccia di sicurezza che stiamo a fare siete stati su Barbaruffa alla profeba grazie a tutti